Devo girare due video e montarne tre in due giorni, di cui uno è anche il videocollezione. Se sopravvivo a questa, sopravvivo a tutto. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo videoacquisti di luglio 2018. Questo mese sono stato davvero impegnatissimo con gli esami e lo studio, quindi nonostante abbia comprato davvero tanti fumetti, non sono riuscito a leggerne una buona parte. Oltretutto in questo video vedrete anche gli acquisti del Remini Comics alla fine del video. Senza dilungarci oltre, cominciamo. Food Wars volume 21, c'è l'organizzazione gastronomica centrale che prova a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri protagonisti che provano ad essere ammessi all'anno successivo. Ovviamente con scarsi risultati. Un bellissimo battle shonen a tema culinario che continua a essere sempre bello e interessante. Da Gashikashi volume 9, un manga comico fantastico organizzato in capitoli singoli e poco collegati gli uni con gli altri, ma che mi fa morire da ridere. Anche dopo questo numero è consigliatissimo a chi piace il genere. The Rising of the Shield Hero volume 10, inizialmente mi aveva preso molto di più, adesso lo considero diciamo un manga nella norma, ma in ogni caso è carino. Una visione da un punto di vista più adulto e cinico del classico mondo fantasy da gioco di ruolo, ad esempio di Sword Art Online. The Promised Neverland volume 4, cosa non è questo volume, Cristo? Cosa non è questo volume? Un sacco di colpi di scena, un sacco di rivelazioni e finisce in un modo che ti fa davvero chiedere cosa succederà nel volume successivo, come alla fine tutti i numeri di questa serie. Senza dubbio uno dei migliori shonen che potete trovare in fumetteria in questo momento è forse anche il migliore. Fire Force volume 8, questo ancora non l'ho letto perché l'ho comprato oggi, andiamo avanti. Platinum Man volume 5, un manga che vorrebbe essere semi serio, semi drammatico, semi realistico, ma io ho una certa pagina, sono scoppiato a ridere, quando si scopre qual è il costume da combattimento della ragazza, che è questa sorta di Tokyo Miu Miu, gli ha messo le orecchiette, gli ha messo la coda, e provano anche a spiegarlo, tipo, eh nella coda si accumula l'energia, le orecchie servono a quest'altra cosa. No, no, è solo... è una cazzata. One Pagmian volume 13, finalmente si conclude il torneo di arti marziali, ovviamente l'ultimo scontro tra Saitama e questo tizio qui in copertina è assurdamente divertente. One Punch Man è un seinen che vale veramente la pena di essere letto, consigliato a tutti. No Ragami volume 16, scopriamo cos'è successo a Bishamon dopo il volume 15, un volume quasi completamente dedicato stavolta a combattimenti e azione, consigliatissimo. Finite il New Edition volume 31 e dopo il time skip inutile, adesso comincia il mega torneone di magia, un cliché shonen dietro l'altro, io non so più cosa fare con questo manga, non so neanche più se lo voglio continuare. Il 94esimo inutilissimo volume di Detective Conan, dove non succede assolutamente niente, non c'è nessuna rivelazione, soltanto qualche caso alla cavolo. Shinichi torna grande per poco con la pillola per vedersi con Ran in una gita scolastica, vedremo se ci sarà un risvolto nella loro storia sentimentale, ma alla velocità con cui va questo manga, temo proprio di no. One Piece volume 86 è uno di quelli che non sono riuscito a leggere, andiamo avanti. Dragon Ball Full Color volume 7, manca ancora un numero alla conclusione della saga del giovane Goku, e poi comincerà quella del grande emone piccolo, non vedo l'ora. Fire Punch volume 6 e Gintama volume 41, perché ve li faccio vedere insieme? Perché non ho letto nessuno dei due, ma questo è un seinen capolavoro, e questo è uno shonen comico parodico capolavoro, nonché mio manga preferito in assoluto. Non posso che consigliarvi entrambi sulla fiducia. Sensa Twerk volume 3, anche questo non l'ho letto, prossimo. Akamega Kill Zero volume 5, una serie che sta andando troppo avanti per la storia che vuole raccontare, sta diventando noiosa, non mi piace, non mi interessa, non mi diverte, sto pensando di dropparla. Guns volume 32, come ho detto la trama è colata ormai a picco, lo prendo soltanto per abitudine e perché ormai mancano 4-5 volumi alla conclusione, è un vero peccato che una serie che era partita così bene si sia ridotta in questo modo. L'attacco dei giganti before the fall volume 13, non sono riuscito a leggerlo. Prossimo fumetto, Battle Royale volume 2, io sto seriamente adorando questo manga, lo consiglio a tutti quelli che sono appassionati del genere survival e psicologico anche, perché c'è un'introspezione non indifferente su praticamente tutti i personaggi, mi piace molto. Hide Out, questo è un manga horror della planet, un volume unico che ho comprato su consiglio di fumetti senza paura, trovate il canale in descrizione. La trama è interessante, riesce a costruire un'atmosfera di tensione incredibile e i disegni sono fantastici, sono una roba incredibile. Se vi piace l'horror e lo trovate nella vostra fumetteria, recuperatevelo, è consigliato. Children of the Whales volume 6 e Made in Abyss volume 3, non ho fatto in tempo a leggere nessuno di questi due. Scarrellata mensile di Marvel, Invincibile Iron Man volume 63, sembra che il ritorno di Tony Stark sia veramente confermato e speriamo che arrivi il più presto possibile, perché questa serie sta raschiando il fondo, oltretutto è anche diventata bimestrale adesso. Capitan America volume 99, un numero che ti lascia a bocca aperta perché si risolve tutto, si risolve letteralmente tutto nel giro di 24 pagine e tu speri che ci sia comunque un retroscena o un qualche altro colpo di schiena che ti faccia dire valeva la pena di leggere questa serie. Per quanto riguarda la testata con primaria, Occhio di Falco e Soldato d'Inverno che vanno in giro a cercare la Vedova Nera, forse un po' troppo presto per esprimere un parere, ma per ora è interessante. La cosa è la torcia umana volume 1, questo l'ho preso soltanto per poi arrivare a leggere la nuova testata dei Fantastici 4 che uscirà più avanti. In realtà ci ho trovato dentro una storia davvero di qualità e una serie che ha praticamente superato tutte le altre che sto leggendo in questo periodo della Marvel. Consigliatissima sia a chi ama, sia a chi è indifferente ai personaggi un po' come me. The Amazing Spider-Man volumi 702 e 703, come al solito la serie di Spectacular non mi fa impazzire, mentre quella di Amazing continua a interessarmi. Bella anche la testata dedicata al Ragno Rosso, non mi dispiace. Deadpool volumi 112 e 113, questa storia di Wade che deve rintracciare Cable, uccidere Cable, viaggiare nel tempo, mi sta davvero appassionando. Anche questo mese è consigliatissima. Ma la serie Marvel migliore di tutte per questo mese è senza dubbio Venom, che adesso che Venomverse è entrato nel vivo dell'azione è la roba più bella che abbia mai letto sul personaggio. Non vedo davvero l'ora di scoprire cosa avrà in serbo per noi nell'immediato futuro questa testata. Passiamo ai fumetti italiani, abbiamo Engie Digi Twin volume 2, non l'ho neanche letto, non l'ho fatto in tempo. I primi due volumi di Nathan Never Generazioni, che altro non sono che i personaggi di Nathan Never in universi che ricordano quelli di altri fumetti, ad esempio qui Sin City e qui Kenshiro. E meno una cagata di quanto sembra e questi due fumetti mi hanno intrattenuto abbastanza. Dylan Dogg numero 382, La Rosa e il macellaio, che è distrutto, è proprio devastato questo fumetto perché era nella sacca con me al concerto di Caparezza e si è demolito. In ogni caso non ha perso il suo effetto fortunato e anche questo mese gli esami sono andati bene. L'inconcepibile Ratman, che altro non è che un volume speciale in cui sono raccolte alcune storie che aveva disegnato Ortolani in varie occasioni, ad esempio per il diario di Ratman c'è quella su Death Note, per il Ratman enigmistico c'è quella del cervello di Ratman, eccetera. Consigliato anche a chi non segue il personaggio, magari un'ottima lettura per avvicinarsi. Il Dylan Dogg di Tiziano Sclavi, lassù qualcuno ci chiama. Come dico sempre, l'edizione è perfetta per avvicinarsi a Dylan Dogg, con storie sempre di qualità, in un'ottima edizione a colori e cartonata, a un ottimo prezzo. Volumi 40, 41 e 42 della nuova edizione di Nathan Never della Gazzetta dello Sport. Io non so come farò quando questa edizione sarà finita. Io vorrò probabilmente continuare a leggere Nathan Never, anche se tanti mi hanno detto che dopo il numero 100 non è più la stessa cosa. Manca davvero poco a quel numero e io sono davvero tanto triste. Ora vi faccio vedere velocemente al massimo gli acquisti del Rimini Comics perché non ho letto praticamente niente. Il primo volume di Urataro, il sesto volume di Radiant e il primo volume di Dirty Waters. L'integrale di Paperi dei fratelli Rincione e per caso Bacch abbiamo il quarto volume di Energeia, il primo volume di Amaltea e i primi volumi di Sasso coi capelli ed 89. E con questo si conclude il video acquisti. Vi ringrazio per averlo seguito, vi ringrazio della vostra attenzione. Restate sintonizzati perché la prossima settimana arriva il video collezione. Vi ricordo che in descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook del canale per ogni domanda, dubbio, curiosità, tutto quello che volete e anche il link al canale Telegram della Spalmati Crew per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità dei nostri canali. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video. Sempre bello il macello che c'è per terra dopo un mio video acquisti.